Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Addio alla vita da pendolare. Andrea Giambruno, poco fa è arrivata una bellissima notizia per il compagno del presidente del consiglio Giorgia Meloni. Lascia Milano e torna a Roma per condurre un programma tutto suo. Il compagno del premier Giorgia Meloni, a partire dal prossimo mese di settembre, condurrà un programma diario del giorno del Tg4 che andrà in onda dal lunedì al venerdì. È un favore personale che l'azienda mi fa ed è un premio per avere, con tutta la squadra, aumentato e consolidato gli ascolti e fidelizzato il pubblico, ha spiegato in occasione di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Gianbruno, a seguito della vittoria del centrodestra alle elezioni del 2022, aveva deciso di lasciare la conduzione di studio aperto per non essere passabile di critiche. A quasi un anno dal voto, tuttavia, il giornalista ha affermato di aver acquistato maggior sicurezza e tranquillità. Gianbruno ha anche commentato i mesi trascorsi a fare il pendolare tra Roma e Milano, ammettendo di non aver vissuto un periodo facile poiché è stato costretto a stare lontano dalla figlia Ginevra. Sette anni Dal lunedì al giovedì non ho potuto occuparmi di mia figlia e tutti sappiamo quanto lavora la sua mamma. Ho avuto la speranza che qualcosa cambiasse perché non è bello sentirsi dire papà non ci sei mai o che a scuola vada a prenderla qualcun altro. A Milano, mia figlia mi manca, ha rivelato.